benvenuta a tutti e a tutti al tredecesimo e penultimo appuntamento del ciclo il futuro sostenibile la serie di incontri organizzati dalla commissione sostenibilità che ha visto il suo inizio a marzo e si concluderà giovedì prossimo io sono asia caligaro studentessa di scienze per l'ambiente e la natura e coordinatrice del gruppo di lavoro spazi edifici della commissione abbiamo organizzato questo incontro con lo scopo di presentarvi uno spazio universitario che forse non tutti conoscono cioè l'azienda agraria servadei e l'associazione gestita dagli studenti orti di ateneo e come ben saprete la nostra linea guida sono i gol dell'agenda onu 2030 e l'incontro di stasera tocca vari obiettivi perché parlando di orti universitari e di aziende agrarie possiamo rifarci ad esempio al gol 2 che al titolo generale sconfiggere la fame ma dove in particolare si parla di migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile e preservare la diversità genetica vegetale attraverso le banche dei semi però possiamo riferirci anche al gol 11 città e comunità sostenibili che invita a fornire accesso universale a spazi verdi sicuri e inclusivi ma anche a sostenere rapporti positivi fra zone rurali e zone urbane e infine anche al gol 13 consumo e produzione responsabili dove si parla di fornire consapevolezza sul proprio stile sul proprio stile di vita rispetto al pianeta terra stasera avremo il piacere di avere come ospite la professoressa lucia piani docente di valutazione ambientale processi di decisione nel corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e soprattutto referente per gli orti di ateneo cioè la parte diciamo del corpo docenti che si occupa di questi spazi e eia bensassi studentessa di economia e presidentessa dell'associazione orti di ateneo quindi diciamo la parte studentesca e inizieremo con l'intervento della professoressa piani che ci racconterà la storia dell'azienda agraria servadei dove appunto si trovano questi orti e ci dirà che cosa si fa e che cosa si può fare all'interno di questi spazi proseguiremo poi con eia che invece ci spiegherà qual è il progetto seno l'associazione studentesca e come stanno lavorando per portarlo avanti bene dopo questa breve introduzione vi ricordo che come al solito se avete domande vi invito a scriverle nella chat così che alla fine dell'intervento potremo leggere e rispondere quindi direi di iniziare e lascio la parola alla professoressa piani prego eccoci grazie tanto grazie per l'invito e poi è sempre bello insomma in qualche modo parlare di queste di queste esperienze un po nuove che abbiamo fatto all'università di udine io vi ho vi avevo preparato una presentazione che quasi quasi vi condivido per capire un po all'interno di che di qual è il panorama in cui si inserisce appunto sia gli orti di Ateneo ma qual è anche il come come diciamo come si configura l'azienda agraria dell'università allora ma innanzitutto parto dall'orto per tornare all'orto questo è l'orto alcuni anni fa ovviamente in piena vegetazione voi vedete che è organizzato insomma come tutti gli orti sociali gli orti urbani che si trovano nelle città e che si sono sviluppati molto in questi ultimi anni ci sono degli spazi che sono diciamo affidati ai singoli utenti o alle associazioni o a gruppi anche di persone che fanno capo all'università di udine e poi ci sono degli spazi comuni che sono quelle due casette piccole che vedete laggiù sono un po diroccate adesso ma abbiamo già ricevuto la disponibilità per metterle un po' a posto perché dobbiamo dipingerle dobbiamo farci qualcosa e dobbiamo farlo diciamo tra di noi insomma quelli che partecipano a questa questa iniziativa in mezzo vedete il serbatoio dell'acqua ma degli orti parleremo poi alla fine di questa di questa conversazione spero di non essere troppo lunga ma casomai mi bloccate potete anche far domande in mezzo tanto è una conversazione tra 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 noi insomma è anzi è più bello essere interrotti diciamo allora innanzitutto l'azienda agraria dell'università allora come sapete l'università di udine la facoltà di agraria prende avvio negli anni alla fine degli anni 70 nell'anno 79 80 ci sono le prime iscrizioni alla facoltà di agraria dell'università di udine io sono tra il primo anno in cui c'è stata sia avviata all'università di udine mi sono iscritta in quegli anni lì e la facoltà di agraria tutte le facoltà di agraria del in italia hanno anche degli spazi per la sperimentazione ovviamente sia dal punto di vista agronomico sia dal punto di vista zootecnico e lo spazio che viene dedicato a queste due funzioni all'interno dell'università di udine è uno spazio diverso perché la sede agronomica è quella di santo svaldo quindi è in comune di udine nella parte sud del comune di udine la sede zootecnica invece faunistica è quella di pagnacco allora chi ovviamente segue diciamo i corsi di agraria conosce queste sedi perché in queste sedi si fanno sperimentazioni ma si fanno anche si fa anche formazione e quindi sia la parte di santo svaldo che la parte faunistica di pagnacco è conosciuta viene utilizzata anche proprio per fare per fare lezione la parte appunto di cui io tratterò di più insomma perché quella in cui è collocata anche sono collocati anche gli orti è quella di santo svaldo a udine che appunto si arriva da via pozzuolo c'è un autobus che arriva che è il numero 3 che ferma quasi esattamente di fronte all'entrata dell'università e sono spazi ampi perché in tutto tra pagnacco e udine ci sono circa una settantina di ettari quindi è una bella azienda diciamo soprattutto per la nostra regione in cui la dimensione media delle aziende è molto più ridotta parto da santo svaldo ma intanto mi piace partire perché con la storia di questa azienda di questa terra di santo svaldo perché questa quell'azienda dell'università di udine era l'azienda dell'ospedale psichiatrico l'ospedale psichiatrico di udine è stato uno degli ospedali diciamo all'avanguardia perché è stato aperto diciamo all'inizio del novecento nel 1904 in quell'epoca lì ed era un ospedale proprio che era diciamo indirizzato a curare le persone e quindi a dare anche degli spazi perché queste persone attraverso il lavoro potessero stare meglio questa è una foto del 1925 una foto della colonia agricola che si chiamava dell'ospedale psichiatrico provinciale erano ospedali appunto che erano gestiti a livello provinciale e mi piace ricordare questa sua funzione perché insomma anche molte delle strutture sono quelle che c'erano quando questa azienda era colonia agricola appunto dell'ospedale psichiatrico e qui è passata come lavoro anche è passata sofferenza e quando insomma si è in un'area così bisogna anche pensare a qual è stata la storia di quell'area l'ospedale la colonia agricola dava anche da mangiare all'ospedale e quindi una parte importante diciamo di quello che veniva consumato nell'ospedale veniva prodotto proprio all'interno della colonia agricola poi sappiamo che gli ospedali poi da questa idea illuminata iniziale hanno preso altre vie in altri periodi anche storici e hanno visto anche una deviazione rispetto a quelli che erano stati le idee iniziali però mi piace ricordare proprio che qui c'è stata questo tipo di sofferenza la sofferenza di chi era ricoverato nell'ospedale psichiatrico ma la sede di Santo Svaldo però poi appunto a seguito proprio dell'istituzione dell'Università di Udine e anche del fatto che insomma c'è stato un cambiamento anche nella politica rispetto alla salute mentale quando è stata è stata data insomma è stata acquisita dall'Università di Udine ed è oggi l'azienda sperimentale per quanto riguarda le culture dell'Università di Udine qui si svolgono molte operazioni, molti studi, molte ricerche abbiamo la parte sulla difesa delle piante quindi tutte le prove sperimentali rispetto a quali sono i prodotti che possono essere utilizzati ma anche quali sono i prodotti che hanno meno impatto sui sistemi ambientali c'è tutta una parte sulla nutrizione, sulla vegetale, sulla fertilità del suolo di cui poi vi parlerò anche dopo rispetto ad una sperimentazione che abbiamo iniziato che inizieremo proprio adesso sull'utilizzo del pellet di lana come fertilizzante dei suoli ma c'è anche come vedete tutta una parte sull'enologia perché c'è un vigneto ci sono anche gli strumenti di trasformazione c'è anche tutta una parte sulle industrie agrarie soprattutto con un laboratorio per la produzione della birra ci sono anche coltivazioni arboree e viticoltura appunto quello di cui vi dicevo se voi andate in questo periodo nell'azienda per esempio quest'anno ovviamente il tempo non è molto propizio però in questo periodo c'è la raccolta delle ciliegie ci sono molti alberi di ciliegie e una parte di queste ciliegie viene anche venduta diciamo venduta e il ricavato ovviamente è un'entrata dell'azienda così come ci sono alberi di mele con cui viene prodotto un ottimo succo di mela ci sono alberi di pesche, di albicocche ci sono tutta una serie di produzioni che vengono utilizzate sia per sperimentazione ma il cui prodotto poi viene anche commercializzato e poi c'è tutta la questione del miglioramento genetico e quindi anche rispetto ad alcune colture la sperimentazione di varietà più produttive di varietà più resistenti di varietà che ottimizzano le produzioni e la parte di agronomia e coltivazioni erbacee accanto a tutte queste cose qui voi vedete la palazzina la prima foto in alto è quella della palazzina che è la sede amministrativa dell'azienda agraria e poi vedete appunto i campi di produzione degli alberi da frutta i vigneti i campi per la sperimentazione sia di alcune colture erbacce ma anche di alcune colture arbore e poi vedete che c'è una foto in cui si riportano dei vasetti ecco questa è una cosa interessante perché come diceva la vostra collega una cosa importante è proprio quella della sostenibilità e sostenibilità vuol dire anche conservazione della biodiversità quei vasetti che voi vedete sono tutti pieni di semi poi li vedremo più in grande e costituiscono la banca del gemoplasma autortono del Friuli Venezia Giulia che è conservata proprio negli spazi dell'università dell'azienda agraria di Santo Svaldo sono conservate tutte le varietà di piante diciamo di sementi che sono state recuperate attraverso un attento lavoro da molti anni che viene fatto da molti anni proprio in giro per la nostra regione ci sono varietà della nostra regione quindi per esempio una delle piante di cui ci sono più semi sono le piante di fagiolo voi sapete che per esempio in montagna nelle nostre vallate si conservano ancora fagioli che sono autortoni che sono particolari che sono prodotti solamente in quelle aree lì e all'interno di questa banca è un frigorifero praticamente è un frigorifero in cui vengono contenuti i semi che poi vengono in parte anche replicati quindi c'è questo spazio che è uno spazio molto interessante che è molto bello anche da vedere perché vedrete anche la biodiversità diciamo dei colori di queste sementi e quindi è uno spazio molto interessante di cui poi vi mostrerò qualche immagine accanto a questa cosa ci sono appunto la vendita diretta perché una delle cose che si fa all'interno appunto degli spazi anche della sede centrale quella che vedete nelle foto è proprio quella di commercializzare alcuni prodotti alcuni prodotti che vengono commercializzati sia ai dipendenti dell'università sia a coloro che vogliono però rifornirsi dei prodotti ovviamente che sono in eccedenza rispetto a quello per i quali sono stati fatti e infine c'è un altro spazio molto interessante che voi vedete qui nelle foto in basso che è uno spazio un tumulo protostorico che è stato portato alla luce era una sorta di collina veniva chiamata la collina del Belvedere che è stato portato alla luce non tanti anni fa proprio da alcuni ricercatori dell'università di Udine che in questo momento è visitabile perché il tumulo può essere a un'apertura poi vedremo anche qui una foto del tumulo per cui si può entrare in cui è stato trovato appunto era una struttura funeraria in cui sono stati trovati alcuni reperti e anche questo è uno spazio interessante da visitare perché è uno spazio che in qualche modo lega questa azienda che è dedicata soprattutto alle produzioni agrarie però anche ad altri soggetti dell'università come per esempio appunto tutta la parte che si occupa di archeologia la banca del germoplasma di cui vi parlavo è interessante proprio da un punto di vista ambientale perché viene conservata una parte importante della biodiversità noi sappiamo che più diciamo più è varia la possibilità di avere specie di piante in questo caso erbace ma anche di piante arbore e più abbiamo la possibilità in qualche modo di reggere anche come dire una questione proprio di resilienza delle produzioni agricole perché alcune specie si adattano meglio per esempio ai cambiamenti che noi abbiamo che costatiamo guardiamo insomma e di cui ci accorgiamo in questi anni ci sono 355 accessioni di piante erbacee annuali di ennali da seme per un totale di 31 specie come vi dicevo qui vi ho messo è una pagina proprio ripresa dalla banca del germoplasma le collezioni più rilevanti sono proprio quelle di fagiolo comune fagiolo di spagna con 200 accessioni quindi circa metà delle accessioni quasi metà delle accessioni sono proprio di fagiolo e di mais a impollinazione libera di cui ci sono 63 accessioni la banca del germoplasma vi ho riportato la foto un po' più ingrandita è questa è questo grande frigorifero in cui sono contenuti tutti i semi catalogati delle piante che sono state recuperate e che in qualche modo costituiscono appunto una riserva di biodiversità in questo caso si dice che il mantenimento è in situ quindi questi questi semi vengono mantenuti all'interno della banca e vengono però rinnovati costantemente quando c'è la necessità attraverso il rinnovo invece ex situ cioè fuori dalla banca da questo contenitore proprio riportando questi sementi alla vegetazione e raccogliendo i nuovi semi che vengono prodotti qui vi ho messo alcune foto di questi campi che sono campi sperimentali che sono proprio dedicati al rinnovamento di queste specie questo per esempio è un campo in cui viene rinnovato diciamo il seme dell'aglio sappiamo che nella nostra regione ci sono delle varietà particolari di aglio qui vedete che c'è l'aglio di Resia l'aglio di Nemmonzo e poi l'aglio di Stolvizza cioè ci sono tutta una serie di varietà di piante che vengono riprodotte poi in questo in questo modo quindi quindi diciamo o vengono riprodotte per le piante che sono diciamo più adatte diciamo alla pianura o vengono riprodotte direttamente nell'azienda agraria oppure vengono riprodotte in presso alcuni agricoltori che sono selezionati che si rendono disponibili a riprodurre queste piante qui vedete questo è un campo una foto che è stata scattata proprio l'altro giorno è un campo che è stato che è di questi giorni proprio e quindi viene riprodotto quest'anno queste specie che sono come vedete c'è aglio ci sono patate ci sono varie specie che vengono poi appunto riprodotte e di cui viene poi tratta la semente l'azienda agraria invece di Pagnacco è più dedicata alla questione della zooternia della zooternia ma non solo cioè nel senso che una parte ovviamente è dedicata all'allevamento delle specie ma c'è anche presso l'azienda agraria di Pagnacco c'è anche un un laboratorio diciamo per la fauna salvatica e quindi anche per 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 fare diciamo rilievi sulla fauna salvatica ci sono laboratori di trasformazione sia sull'atmo ci sono anche laboratori per la trasformazione per per l'allevamento diciamo dei pesci e poi ci sono delle zone in cui ci sono vengono mantenute diciamo alcune specie di ungolati l'azienda agraria di Pagnacco è si accede diciamo da via San Mauro a Pagnacco è un'azienda sempre che è di una trentina di ettari un po' diciamo più vari cioè nel senso che ci sono pezzi a bosco pezzi a prato stabile ci sono altri edifici in cui vengono fatti appunto che sono utili diciamo funzionali all'azienda e poi ci sono diverse razze di animali in questa azienda proprio si sta sperimentando in questo in questo ultimo periodo la questione del pellet di lana nel senso che non so se voi sapete che la lana che viene diciamo la lana delle pecore deve essere trattata se non ovviamente utilizzata per scopi come scopo tessile oppure scopo anche in edilizia deve essere trattata come rifiuto speciale e quindi uno dei problemi che hanno non solamente ovviamente nell'azienda agraria ma anche allevatori in giro per la nostra regione è proprio quello di dover spendere per smaltire la lana delle pecore perché le pecore vanno ovviamente tosate per il loro benessere e smaltire la lana vuol dire portare la lana dove vengono trattati i rifiuti speciali pagare per ogni chilo di lana una certa quota di denaro e quindi diventa un costo non solamente per il trasporto ma anche per il pagamento dello smaltimento di questo rifiuto allora in questo in questo ultimo periodo proprio si sta pensando assieme anche ad altri che nella regione hanno questo problema di arrivare a sperimentare ma è una sperimentazione che in altre parti d'Europa è già stata fatta la lana di pecora come fertilizzante del terreno e quindi utilizzare quella lana pellettata per la fertilizzazione del terreno anche nei nostri orti e anche gli studenti degli orti si sono resi disponibili a sperimentare questo nuovo fertilizzante perché potrebbe essere molto interessante soprattutto perché riesce a trattenere l'umidità alcune elementi di interesse importanti e quindi nell'azienda di Pagnacco si fanno tutte le sperimentazioni rispetto all'allevamento animale rispetto all'azienda agraria dell'università quello che si è fatto anche negli ultimi anni è proprio quello di ragionare in termini di sostenibilità e quindi di pensare a come questa azienda potrebbe diventare un luogo di sperimentazione anche di un'agricoltura di comunità cioè un luogo in cui si cerca di produrre anche per sia per diciamo per poi essere utilizzato all'interno dell'università ma anche per fare un'agricoltura che sia più inclusiva per cui l'azienda agraria dell'università è diventata fattoria sociale non so se voi avete idea di che cosa sono le fattorie sociali le fattorie sociali sono quelle fattorie che vengono riconosciute diciamo per il loro ruolo proprio che hanno da un punto di vista sociale e che fanno per esempio inclusione anche di soggetti con difficoltà quindi diciamo che si chiude un po' anche il cerchio rispetto a quello che è stato l'origine dell'azienda agraria soprattutto dell'azienda agraria servadei quella di santo svaldo che era stata in qualche modo era stata voluta per proprio per riabilitare le persone con difficoltà si chiude un po' il cerchio perché diventando fattorie sociale l'azienda dell'Università di Udine in qualche modo riprende anche un ruolo rispetto all'inclusione anche dei soggetti con difficoltà e qui in questa immagine vedete anche quali sono i prodotti che vengono venduti che vengono venduti che vengono prodotti che vengono in qualche modo soprattutto utilizzati da chi è dentro l'Università che sono appunto sia prodotti delle coltivazioni quindi la frutta alcune volte le verdure sia prodotti trasformati come la birra che è una buona birra blanche che viene prodotta con la tecnologia dell'Università sia il vino dell'Università che viene prodotto dal vigneti che vengono coltivati all'interno dell'Università e che viene diciamo commercializzato con sia in bag in box quindi in quantità di 5 litri sia imbottigliato con questa con questo marchio oro dei patriarchi quindi quel vino è un vino bianco che viene chiamato oro dei patriarchi e poi c'è la produzione di miele delle api che vengono appunto allevate all'interno dell'azienda e di succo di mela che viene prodotto dalle mele che vengono coltivate questo questo è il progetto del concime che noi stiamo sperimentando ve l'ho messo non tanto per perché abbiamo aperto una cosa interessante che è una sperimentazione partecipata e quindi abbiamo chiesto alle persone che sono disponibili a lavorare i propri orti con questo fertilizzante di darci una mano per capire quanto è valido questo fertilizzante e quindi per impostare proprio una sorta di sperimentazione partecipata chiedendo di dividere l'orto tra l'orto che viene trattato con il pellet di lana e poi concimato anche con altri concimi che vengono solitamente utilizzati e quello invece che non viene trattato con il pellet di lana e di segnalare su una scheda che abbiamo appositamente preparato quali sono le differenze una volta che ovviamente si è compiuto il ciclo produttivo è interessante perché fa parte di quella che viene chiamata la citizen science cioè la scienza con i cittadini e per i cittadini che vede coinvolti i cittadini proprio nello sperimentare anche quello che si sta facendo e quindi questa idea di coinvolgere i cittadini in questa sperimentazione ci sembra un'idea utile per noi ma anche per i cittadini che così stanno più attenti diciamo a quelli che sono i risvolti produttivi utilizzando prodotti diversi e infine perché non voglio togliere tempo c'è questa una delle esperienze insomma che in questi ultimi anni è entrata a far parte dell'azienda agraria di Pozzolo è proprio quella degli orti di Ateneo noi devo riconoscere che questa idea è stata condivisa con uno studente il dottor Alberto Pivotto che ha fatto la sua tesi di laurea proprio studio di fattibilità per la realizzazione di un orto di Ateneo nell'Università degli Studi di Udine è stata è stata una tesi molto importante perché alla fine quel progetto degli orti è il progetto che aveva fatto Alberto con la sua tesi proprio l'altro giorno è passato mentre eravamo negli orti è entrato e insomma è anche una bella soddisfazione vedere realizzato un progetto così importante per l'Università ma anche proprio in termini di comunicazione di quello che si fa vederlo realizzato un progetto fatto proprio con la tesi di laurea abbiamo iniziato la tesi come vedete è l'anno accademico il 2012 2013 quindi è una tesi che è stata fatta già una otto otto anni fa sette otto anni fa è stata è stata una tesi che noi abbiamo iniziato con un sondaggio perché abbiamo pensato ma l'idea era interessante però abbiamo pensato forse dovremmo capire se c'è una domanda di orti da parte dei dipendenti ma anche degli studenti dell'Università e così abbiamo fatto un questionario che è stato rivolto a tutto il personale dell'Università quindi è stato inviato dall'Ufficio Relazioni a tutto il personale e abbiamo avuto una una bella risposta perché alla fine c'è stata una risposta importante da parte dei dipendenti dell'Università che si sono dichiarati entusiasti rispetto alla alla questione di proporre questo progetto l'area interessata dagli orti di Ateneo se vedete questa è la mappa dell'azienda agraria di di Santo Osvaldo è quella piccola in rosso in alto a sinistra ecco quell'area lì è stata individuata perché perché ovviamente bisognava trovare un'area che fosse accessibile anche attraverso un cancello dalla strada proprio perché era diventava difficile lasciare aperto lasciare disponibile tutta l'area dell'azienda agraria a coloro che affittavano poi il loro lotto di terreno ma bisognava trovare un accesso indipendente che permettesse di chiudere poi l'entrata durante il fine settimana all'azienda agraria perché ovviamente per tutti i problemi di sicurezza di insomma di qualità di tutte queste cose e quindi quella era l'unica zona che poteva essere interessante proprio perché aveva un accesso da via Pozzolo quali sono i problemi che ci si pone quando bisogna fare un'operazione del genere beh insomma uno dei problemi è quello dell'acqua quindi senza acqua non si fa orto e quindi il primo problema è stato quello di capire se c'era la possibilità di avere l'acqua e in che modo poteva essere data poi a coloro che affittavano l'orto poi la questione della divisione dei terreni della delimitazione dell'area se voi andrete a vedere c'è tutta una rete che delimita quell'area lì una rete che in qualche modo viene molto spesso scavalcata da qualcuno ma insomma pazienza poi c'è la questione appunto di che fare dei residui per cui ci sono come diciamo fare il sistema di compostaggio la questione della raccolta differenziata dei rifiuti la questione appunto degli accessi quindi come diciamo stabilire gli accessi all'orto ovviamente le persone che vanno a lavorare un orto vanno soprattutto nei fine settimana perché durante la settimana molti sono a lavorare e quindi non possono andare a lavorare l'orto quindi il problema vero era che mentre l'azienda agraria è chiusa durante i fini settimana gli orti erano utilizzati durante i fini settimana e poi quello di capire come diciamo poter lasciare le attrezzature all'interno di quegli spazi e quindi alla fine la questione del regolamento perché definire le regole che in qualche modo permettono di convivere a coloro che affittano l'orto in maniera buona cioè senza troppi conflitti senza pensare che quello vicino tratta con prodotti di un certo tipo e io non voglio che venga trattato con prodotti insomma ci sono tutta una serie di regole che permettono di convivere bene all'interno dell'orto a dire il vero oggi come oggi l'esperienza ha già 4 anni e diciamo che le regole funzionano perché non ci sono mai stati diciamo problemi di no di così di malumori all'interno tra tra quelli che hanno che hanno affittato gli orti l'altra cosa era in questo momento qui l'accessibilità perché l'azienda agraria è abbastanza lontana rispetto sia al centro città sia soprattutto agli altri poli universitari qui c'è l'autobus che arriva il numero 3 e qui c'erano anche gli spazi della raccolta differenziata oggi come oggi questi spazi essendo che il comune di Udine ha deciso giustamente di fare la raccolta porta a porta sono stati eliminati e comunque nel regolamento c'è scritto che ciascuno porta a casa i propri rifiuti e li gestisce in maniera attraverso la raccolta differenziata quindi nessun rifiuto deve rimanere lì anche perché lasciando lì i rifiuti ovviamente c'è anche un problema di inquinamento poi da microplastiche da altre cose quindi c'è questa e questi sono gli orti tra la tesi appunto tra il dire e il fare ci sono di mezzo a quattro anni cioè da quando ha finito Alberto la sua tesi ci sono passati quattro anni ma dopo quattro anni si sono realizzati come sono ci sono venti lotti venti lotti come vedete sono segnati da questi numeri i venti lotti sono di 36 metri quadri ciascuno quindi una dimensione insomma abbastanza agevole per chi deve coltivare anche da solo il lotto a capo di ciascun lotto c'è un rubinetto dell'acqua per cui ciascuno ha la propria dotazione di acqua che all'inizio era l'acqua di quel serbatorio che avete visto nella prima foto che è segnato anche lì che veniva riempito attraverso l'acqua di roggia e quindi veniva riempito nei fine settimana essendo l'azienda chiusa veniva riempito completamente doveva essere utilizzato dagli ortisti diciamo cercando di risparmiare ovviamente l'acqua poi successivamente è stato fatto un ingresso di acqua invece da pozzo perché l'acqua che veniva utilizzata della roggia non sempre aveva la qualità insomma utile per essere utilizzata negli orti e quindi si è deciso di cambiare il sistema di approvvigionamento dell'acqua tutto intorno vedete la rete e poi vedete appunto le due casette c'è poi una sorta di pergolato di casi insomma di tettoia sotto in cui noi abbiamo messo dei tavoli delle sedie una panca proprio perché l'orto nella sua idea diciamo nell'idea che abbiamo avuto anche che è stata in qualche modo seguita con la tesi era dove voleva diventare non solamente uno spazio di produzione e di produzione per l'autoconsumo ma voleva diventare anche uno spazio di relazioni poi vedremo in effetti è uno spazio di relazioni è uno spazio di relazioni perché a parte in questo momento in cui c'è stata la pandemia in cui ovviamente la relazione diventava sempre più difficile però effettivamente e vorremmo riprendere al più presto quando ci sarà la possibilità abbiamo fatto le cene abbiamo scambiato i prodotti abbiamo fatto molte attività proprio che in qualche modo facevano capire che chi aveva l'orto era parte di una comunità quest'anno appunto ci saranno anche più studenti a partecipare quindi noi vorremmo che questa comunità si allargasse perché diventa diventa interessante lo scambio di pratiche diventa interessante le relazioni di aiuto quando uno non c'è che qualcun altro bagna insomma ci sono alcune cose che fanno capire che più comunità siamo e più diciamo stiamo bene no? e poi questa è la domanda di assegnazione la domanda di assegnazione anche qui abbiamo voluto privilegiare un po' la questione della comunità perché abbiamo detto se la richiesta viene fatta da più dipendenti assieme no? e quindi diciamo c'è questa idea no? di coltivare assieme di fare un po' più appunto comunità il punteggio sarà più alto la cosa ha funzionato in parte devo dire cioè nel senso che non è sempre non è sempre facile avere un appezzamento in più persone noi ci abbiamo provato ci siamo anche riusciti insomma abbiamo fatto una domanda in tre diverse persone di un appezzamento e tutto sommato è stata un'esperienza non facile non facile perché anche nelle poi nelle non solamente nella coltivazione che fosse più facile ma anche nelle produzioni lo spartirsi le produzioni il non aver coraggio di raccogliere perché pensi che quell'altro dopo insomma è un laboratorio di gestione collettiva molto interessante no? gestire un orto assieme e poi gli altri punteggi per l'assegnazione era il fatto di non avere un orto a disposizione e di abitare non troppo distante anche perché insomma uno dei temi è proprio quello della sostenibilità per cui noi saremmo contenti se la gente venisse a coltivare in bicicletta invece che in macchina se ci fosse un'attenzione diciamo anche verso questo tema verso il tema proprio dei trasporti ma questo ovviamente non è facile perché appunto gli orti sono un po' distanti e poi ci sono le regole le regole che sono quelle che permettono di non di non essere di non farsi barufa di essere le regole sono state che gli orti devono essere coltivati con metodo biologico per cui non c'è la possibilità di utilizzo di principi chimici di sintesi ma tutti devono coltivare con questo metodo gli scarti devono essere compostati noi abbiamo autoprodotto una compostiera che però si è sempre trattata un po' così dagli ortisti cioè nel senso che tutti buttano ma nessuno cura un po' la compostiera e poi i rifiuti devono essere smaltiti autonomamente e poi che ciascuno deve procurarsi la propria attrezzatura allora su questo in effetti dopo le prime riunioni noi abbiamo fatto un'assemblea anche degli ortisti abbiamo deciso che chi voleva poteva decidere che i suoi attrezzi che erano nelle casette potevano essere utilizzati da ovviamente quando la persona non c'era ma potevano essere utilizzati da tutti e la cosa ha funzionato molto bene cioè nel senso che noi abbiamo portato ognuno di noi ha portato degli attrezzi e tutti noi utilizziamo gli attrezzi di tutti senza nessun problema e poi la questione è che tutti devono utilizzare l'acqua attenti al consumo questo era molto importante quando avevamo quel serbatoio che voi vedete in questa foto che diventava l'unico l'unica quantità di acqua che poteva essere utilizzata nel fine settimana quindi capite che con 20 orti con quel serbatoio se uno consumava tutta l'acqua ovviamente si diventava difficile per gli altri irrigare questo è stato un problema perché spesso il serbatoio era vuoto qualcuno andava non c'era più acqua bisognava andare a riaprire la pompa all'interno dell'azienda insomma forse questo è stato l'unico problema che abbiamo incontrato ma che abbiamo anche in qualche modo risolto e questa è appunto questa è la prima assegnazione degli orti abbiamo fatto anche una piccola festa e abbiamo nelle regole dell'orto c'è anche il fatto che c'è un contributo di 80 euro per ciascun appezzamento all'anno che va un po' a pagare le spese insomma che abbiamo sostenuto anche per fare anche se veramente abbiamo speso pochissimo rispetto anche agli investimenti di altri orti sociali però ovviamente ci sono state delle spese di investimento per fare questi orti se non altro le reti i cancelli le casette tutte queste cose qui e poi anche l'acqua ovviamente l'acqua è un costo e in qualche modo deve essere pagato rispetto a chi ha fatto richiesta qui i dati sono un attimino non sono aggiornatissimi perché adesso quasi tutti gli orti sono stati sono stati presi è chiaro che non cioè avere l'orto è anche una fatica cioè nel senso che insomma bisogna curarlo bisogna togliere le erbe bisogna perfino andare a raccogliere i prodotti perché per la grande produzione è nel mese di agosto e poi e però insomma diciamo che c'è stata una bella risposta non solamente da chi era più nell'ambito agrario ma anche da architettura da ingegneria da lettere da lingue da altre strutture universitari e anche dagli studenti dell'associazione lo spirito degli orti è appunto quello che gli orti vogliono essere un momento in cui ritrovarsi per lavorare assieme nella natura e con la natura lo spirito è quello della cooperazione e l'assemblea degli assegnatari si riunisce e nomina un rappresentante e poi c'è una chat di cui fanno parte anche i vostri colleghi su whatsapp proprio per scambiarsi delle informazioni rapide tipo io l'altro giorno ho scritto che avevo lasciato delle piantine di cipolla per chi volesse sotto la tettoia ma nessuno mi ha risposto però speriamo che le abbiano prese e poi queste ci sono alcune foto sugli orti ma adesso ho preso anche troppo tempo mi sono accorta questi sono gli orti gli ultimi l'anno scorso in cui qualcuno ha messo anche fiori questi sono i fiori dell'orto di cui sono molto mi vanto molto perché sono i miei carciofi quindi quello è il carciofo da mangiare e quello è il fiore del carciofo che è meraviglioso che ho lasciato andare a fiore e poi questi sono i risultati delle produzioni ecco questo lo spirito dell'orto è anche questo perché per un periodo c'è stata anche una nostra collega di unghierese che siccome era poetessa ci lasciava delle belle poesie appese dentro le casette bene insomma qui è molto rapida ho dovuto fare però insomma no e poi l'altra cosa che dicevo con Asia e EIA è questa camminata che potremmo organizzare che potrebbe essere bella proprio per vedere gli spazi per conoscere quegli spazi di cui vi ho parlato allora grazie alla professoressa intanto per averci dato una panoramica così completa dell'azienda agraria veramente interessante ed è incredibile sia quanta storia ci sia dietro sia quanti progetti stiano portando avanti allora io direi di andare avanti allora passiamo al prossimo ospite EIA ben sassi come dicevo studentessa di economia e presidentessa dell'associazione Orti di Ateneo allora io avrei un po' di domande per te EIA e volevo partire dall'inizio puoi spiegarci quando e come è nata l'associazione Orti di Ateneo allora l'associazione Orti di Ateneo è nata in ambito universitario nel 2019 quando alcuni studenti per lo più di agrarie si sono riuniti e hanno formato l'associazione e successivamente nel 2021 diviene ufficialmente un'associazione insomma riconosciuta e è stata rilanciata dalla commissione sostenibilità di Udine e insieme alla commissione siamo riusciti a formare l'associazione che adesso conosciamo ok allora puoi dirci quanti iscritti contate attualmente e anche per curiosità vorremmo sapere quali corsi di laura frequentano i soci o almeno a che dipartimento appartengono insomma sì noi siamo circa 30 persone di tutte le facoltà nel senso che abbiamo persone che provengono da facoltà agrarie ma anche persone che provengono da facoltà di lettere io che faccio economia persone di ingegneria quindi in realtà c'è veramente un gruppo eterogeneo ok quanto terreno avete a disposizione per coltivare e anche quali quanti strumenti o che tipo di strumenti avete allora noi come associazione abbiamo due lotti di 36 metri quadrati e un terzo in condivisione con una professoressa e quindi facciamo anche un lavoro di condivisione anche con dei professori e abbiamo in collaborazione con l'azienda Gradia un quarto lotto in cui come diceva la professore Sapiani si lavorerà con i pellet per una sperimentazione e a questo punto vorrei solo aggiungere che noi come associazione offriamo sia lo spazio per coltivare chiaramente in condivisione gli ortaggi ma anche spazio per eventuali tesi e infatti quest'anno con l'azienda Agraria si è aperta una posizione per fare una tesi che riguarda appunto questi nuovi pellet e questo sarà molto interessante soprattutto per gli studenti di Agraria immagino e quindi che tipo di piante state coltivando o avete intenzione di coltivare e allora noi pensavamo di fare sia un orto diciamo estivo quindi con un raccolto ad agosto sia uno invernale adesso stiamo lavorando all'orto estivo e coltiviamo di tutto dai pomodori alle zucchine passando per funghi fragole erbe coficinali quindi in realtà spazio veramente stiamo coltivando di tutto ecco ok e oltre alla coltivazione che sarà l'attività principale immagino avete anche altri progetti sì noi pensavamo di costruire degli hotel per api sia per quanto riguarda comunque la sostenibilità dell'orto in sé nel senso che come ha detto la professoressa Piani prima non è permesso avere pesticidi non è obbligatorio una coltivazione biologica quindi la presenza di api o comunque insetti predatori aiuterebbe molto gli orti per quanto riguarda la produzione e sia anche per la salvaguardia delle api come ben sappiamo sono abbastanza in difficoltà quindi pensavamo di posizionare un hotel nei pressi degli orti e poi magari anche più avanti anche in altri posti in università ok io avrei un'ultima domanda se qualcuno fosse interessato come fa di scriversi allora basta mandare un'email a noi all'associazione orti di Ateneo oppure comunque seguirci su Instagram e scriverci una breve presentazione dove ci spiega il motivo per cui vuole far parte della nostra associazione e dopodiché insomma ci accordiamo insomma può far parte dell'associazione Orti Ateneo è aperta comunque a tutti gli studenti indifferentemente dal tipo di studi o background di ciascuno ecco ecco potremmo scrivere in chat la mail così le persone interessate avranno un riferimento allora se qualcuno ha qualche domanda da porre allora io ho una domanda da parte di Jacopo Simonella che chiede perché non è previsto che uno studente possa prendere un lotto da solo o in un piccolo gruppo ma solo attraverso l'associazione allora bella bella domanda no nel senso che c'eravamo posti questo problema no del lotto del lotto singolo del il problema è che allora i lotti vengono assegnati per più anni cioè nel senso che noi non facciamo un bando ogni anno per l'assegnazione dei lotti quindi i lotti vengono assegnati per due anni con la possibilità di rinnovo se qualcuno lo desidera per altri due anni il problema di avere singoli studenti era un po' legato al fatto che comunque la disponibilità di quei lotti è abbastanza piccola diciamo quindi ci sono 20 lotti in tutto e diventava insomma un po' complicato fare questa operazione l'altra cosa è che c'è il problema del ricambio cioè nel senso che se uno prende in gestione il lotto e l'anno dopo si laurea diventa per noi difficile poi rifare l'assegnazione rifare tutte queste cose perché perché insomma noi abbiamo abbiamo deciso di tenere la cosa all'interno dell'università un po' anche per problemi di assicurazioni del fatto che insomma chi viene sia in qualche modo legato diciamo al sistema universitario e quindi abbiamo pensato ma insomma l'associazione degli studenti diventa potrebbe esserci anche un'altra associazione degli studenti che si forma cioè nel senso che non è detto che ci sia solamente quella che si chiama associazione degli studenti orti di Ateneo però il fatto che ci sia un'associazione che in qualche modo garantisce una continuità anche nell'utilizzo dell'orto questo ci sembrava importante e anche come proprio messaggio di coltivazione diciamo in comunità insomma in qualche modo in realtà avrei ancora una domanda per Eia che canali ci sono per seguire diciamo quello che sta facendo l'associazione come facciamo a vedere cosa fate sicuramente la pagina Instagram stiamo cercando di ampliare i nostri canali social quindi sia la pagina Instagram fra poco cominceremo a mettere dei video su YouTube con qualche piccolo tutorial per fare un piccolo degli orti soprattutto in questo momento di Covid dove non possiamo spostarci ci sembrava carino anche magari dare una mano ai futuri ortisti per capire come fare un orto a casa e quindi anche su YouTube apriremo questo canale e poi insomma via email se a qualcuno ha piacere possiamo mantenerci in contatto e per ultima cosa abbiamo anche un gruppo su Microsoft Teams dove facciamo ogni venerdì delle piccole riunioni webinar dove spieghiamo ogni settimana un diverso argomento sia per quanto riguarda l'orticoltura sia per quanto riguarda le api ok interessante allora io ho una domanda da parte di Simone Baldassi che chiede come mai la lana è considerata un rifiuto speciale nonostante sia naturale anche questa è una bella domanda è una cosa un po' assurda però questa è la norma è la norma che dice che la lana nel momento in cui viene gettata diciamo viene gettata non viene utilizzata per altri scopi viene considerata rifiuto e deve essere mantita come come rifiuto speciale sul perché abbiamo preso questa decisione veramente non lo so però so che questo è un problema grosso perché per gli allevatori diciamo siccome gli allevatori anche della nostra regione non sono allevatori molto grandi poi bisogna che le pecore siano di un certo tipo per avere la lana diciamo per un determinato utilizzo quindi questa è una delle soluzioni diciamo all'utilizzo e al non spreco di una risorsa che è importante per esempio io sono stata a visitare degli orti in Slovenia per esempio loro la utilizzavano anche come sostanza pacciamante cioè facciano la pacciamatura per cui coprivano il terreno con la lana con la lana grezza e lo facevano appunto utilizzavano la lana per come come pacciamatura e poi insomma viene utilizzata anche in molti altri modi uno uno dei problemi che perché io ho seguito un po' la questione della lana nella nostra regione uno dei problemi grossi è proprio quello dei sistemi di lavatura per l'utilizzo per altro utilizzo io sono stata a vedere per esempio una cooperativa in Veneto che faceva lavava faceva allevamento aveva trovato un impianto che lavava la lana e poi producevano diciamo delle coperte dei tessuti con la lana dell'alpago e quindi avevano anche fatto una sorta di marchio di produzione di questi però certo è un percorso un po' complicato è un percorso un po' complicato adesso c'è stato il consorzio Vali e Dolomiti Friulane che ha fatto che ha portato la lana in Austria per fare proprio il pellet il primo pellet è quello quindi noi faremo la sperimentazione con il pellet prodotto in questo impianto austriaco però c'è l'idea di costruire un impianto anche qui in azienda proprio uno spin off a livello di azienda agraria ok la prossima domanda è per Eia immagino chiedono quando è prevista la prossima attività in campo dell'associazione questo sabato andremo in campo e lavoreremo la terra e cercheremo di trapiantare le piantine che fino ad ora abbiamo coltivato a casa tempo permettendo sarà bello sarà bello dovevamo già andare la scorsa settimana ma ogni weekend era piovoso però insomma vedendo il meteo dovremmo esserci ma sì dai sarete fortunati scommetto allora la prossima domanda è di Comel Sara che chiede quali sono gli obiettivi dell'associazione allora sicuramente sensibilizzare la comunità universitaria verso argomenti come la sostenibilità e gli orti urbani successivamente dare magari agli studenti uno spazio soprattutto in questo periodo di clausura dove poter fare comunità sempre nel rispetto delle distanze però insomma coltivare una passione in un momento insomma così critico e poi comunque cercare di imparare qualcosa che al giorno d'oggi magari è difficile saperlo fare subito quindi magari ascoltando i nostri webinar venendo in campo con noi e avendo un rapporto così vicino con gli altri orticoltori anche con la professoressa Piani quindi imparare sempre cose nuove sia in campo ma anche virtualmente ecco ok allora io ho ancora una domanda da parte di Chiara Malisano che chiede pensate di aumentare il numero di lotti o al momento bastano i 20 che già ci sono e poi un'altra domanda di spazi dell'azienda sono visitabili? stavate parlando prima di una camminata che si può fare per visitare questi spazi grazie mille quindi penso per la professoressa allora ma diciamo che al momento gli orti bastano cioè nel senso che non c'è all'inizio c'è stata una richiesta più alta insomma alla fine sì l'orto è un impegno devo dire cioè non è proprio che uno lo prende e lo lascia lì senza farci niente quindi questa grande risposta che noi ci aspettavamo un po' per la distanza cioè se gli orti fossero collocati per esempio negli spazi vicini dei rizi no è probabile che avrebbero molta più richiesta perché lì c'è una bella comunità importante che lavora uno esce dal lavoro invece dai rizi arrivare fino a Santo Svaldo beh insomma diventa una sorta di viaggetto sul fatto che l'azienda sia visitabile sì l'azienda potrebbe essere visitabile se noi organizziamo una camminata cioè diciamo che potremmo provare a fare questa cosa cioè e anche chiedere che ci aprano per esempio il tumulo andare a vedere anche la tomba protostorica che si può entrare si può vedere insomma no è così come tutte le coltivazioni diciamo ecco volevo l'ultima cosa che volevo dirvi rispetto a quell'area lì che è una cosa che tentiamo di fare da quando abbiamo istituito questa cosa degli orti è quella proprio di trovare anche degli spazi di condivisione con i nostri vicini di casa che sono diciamo gli ospiti delle comunità che fanno appunto inclusione di persone con disagio mentale proprio per mantenere un po' quella quella l'obiettivo che aveva inizialmente l'azienda la colonia agricola e quindi siccome dall'altra parte della rete proprio la riusciamo a vedere anche c'è un orto sinergico che viene fatto dagli ospiti di una delle comunità che sono ospitate nel parco di Santo Svaldo una delle idee era quella proprio di riuscire a trovare dei momenti di condivisione anche con loro tenendo diciamo come luogo della condivisione proprio lo spazio della produzione agricola e quindi questo ci siamo trovati qualche volta però ci piacerebbe riuscire a fare proprio un'attività di scambio di conoscenza con gli ospiti poi del vecchio ospedale psichiatrico diciamo ok quindi le faccio io una domanda se qualcuno avesse realmente interesse di organizzare e partecipare a una visita chi dovrebbe rivolgersi guarda io a dire al vero ne avevo già parlato con il direttore con il professor Pia Sentier che mi aveva detto che sarebbe stato ben contento di organizzare una visita dell'azienda anzi aveva detto troviamo un giorno e organizziamo quindi definito un giorno possiamo organizzarla quando vogliamo quando vogliamo con la spiegazione di quello che si sta facendo in questo periodo possiamo anche raccogliere le ciliegie e mangiarci le ciliegie durante la camminata quindi quindi secondo me è il momento giusto per fare questa camminata questo perché non è troppo caldo si riesce a vedere bene le produzioni comunque stanno partendo e quindi insomma se siete interessati questa è una cosa organizzabile il professor Pia Sentier mi ha già detto che insomma che c'è massima disponibilità a fare questa camminata attraverso l'azienda io direi che se non ci sono altre domande possiamo avviarci verso la conclusione di questo incontro e io ringrazio ancora sia la professoressa Lucia Piani disponibilissima e anche Ia Ben Sassi ovviamente ringrazio entrambe e prima di lasciarvi però volevo ricordarvi che giovedì 3 giugno si terrà l'ultimo incontro a titolo la Food Coalition della FAO e le iniziative dell'Italia dove ci sarà un ospite veramente d'eccezione ovvero l'onorevole Marina Sereni vice ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ci spiegherà cos'è la Food Coalition e quali sono le iniziative che stanno portando avanti volevo sottolineare una cosa importante che l'evento si terrà alle 16 e quindi non al solito orario quindi insegnatevelo perché sarà veramente molto interessante e per concludere ringrazio sempre i nostri ospiti e ringrazio anche voi che ci avete seguito stasera e per maggiori dettagli e approfondimenti ci trovate sulle pagine Facebook e Instagram del CDS del Consiglio degli Studenti oppure sul canale Telegram della Commissione Sostenibilità e sul sito uniud.it CDS Sostenibile vi lasciamo con il nostro motto si parte del cambiamento collabora con la Commissione Sostenibilità grazie a tutti e a tutti e buona serata buona serata e buona serata